Siamo con Fiodor Martino, terzino adesso numero 20 dello United, oggi 7 a 3 con West Ham. Un commento sulla partita, com'è andata? Io direi che è andata bene, io ero un po' fuori ruolo perché gioca il gerente centrale, credo che ci siamo mossi bene, credo che abbiamo dominato tutta la partita, i gol loro sono stati abbastanza fortuiti, credo anche che il portiere abbia fatto loro delle parate pazzesche, in certe situazioni sembrava essere regata la porta, ma sono veramente contento della squadra. Siete partiti 3 a 0, poi 3 a 3, per qualche minuto c'è stata anche l'opportunità di andare sotto, poi cos'è cambiato? Principalmente credo che la partita era un po' sempre dominata da noi, ma credo che in certi momenti tutte le squadre quando prendono un gol, due gol, tre gol, c'è un momento come se ti perdi un secondo di fiducia e credo che questo sia stato realmente il problema, ma poi abbiamo risolto il tutto. Grazie mille e in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie mille.